ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovissimo video siamo ritornati qua in in una casa che ci apriamo una casa così random e poi facciamo altre cose sblocchiamo fino a 68 se ci arriviamo intanto ci prendiamo i punti di energia di sandy che ci fanno comodo e ci sblocchiamo questa cassa speriamo che troviamo qualcosa lasciate like iscrizione e attivate la campanellina e vediamo che troviamo niente niente però due punti 200 raddoppi oggettoni che ci serviranno oggi in questo video e niente niente quello di allora andiamo subito a giocare con beryl in ricercati è una mappa stranissima noi siamo di sopra invece di stare sotto non lo so come è fatta si signora penny posso ucciderla ok si l'ha ucciso flip sus dai cavolo cavolo allora dobbiamo utilizzare la super non a cavolo come ho fatto sì ma che nabbo sono andate verso di là io non c'entro niente ho detto andate verso di là no vabbè siamo morti abbiamo verso 20 a 21 noi ok 29 a 20 appena rimuovono qua ogni cosa ha i suoi tempi signor mortaio la devo uccidere però dai siamo così nabbi no allora come ho fatto quasi cinquemila coppe via via cavatene crepetto di montagna struzzo me ne vado via ok proteggiamo a lei allora oh struzzo ma che vuoi fare ok devo recuperare la vita via via no 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 va bene intanto struzzo va bene 38 dai mi aiutate va bene sono morto e sono ho finito la partita Roteando Una partita portata a casa Allora dobbiamo vincere Altre due partite E ci portiamo a casa 500 oggettoni Che ci potrebbero fare comodo Per sbloccare Due soglie credo Non lo so Due soglie Andiamo in partita Vediamo che cosa succede Allora abbiamo contro una piper Che forse Sarà molto nabba Perché deve essere tipo In sopravvivenza è buona piper In ricercati non lo so Perché io non ce l'ho piper Ce l'ho avuta L'ho avuta piper Dove credi di andare Non sperare Non sperare Piper è il mio brawler preferito Comunque sta crescendo Ok Mi sa che Che là C'è il pocio Oddio Chi è Chi è Ah no È colto fuori legge C'è qualcuno Sniperona Ok Là c'è colto Ora appena Loro vengono Venite 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 Ben No Ok sono un nabbo Forza Forza Attacca attacca No via Via Struzzo Ok 21 e 17 21 e 17 Me ne ho accorto Ora cavolo Bombolozzo No Perché mi hanno ucciso No Struzzo Struzzo Ok Bene Benissimo Allora Dobbiamo trovare Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni 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 Che ti uccido Ok Dobbiamo Uccidere Edgar Non so se ce la facciamo Ovvero Vinciamo Vinciamo di uno Ma me lo dite così Se io voglio Ok 40 e 34 Mi sa Che c'è una bella differenza Di 6 40 40 e 38 44 Ok Via 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 Se si faceva uccidere quel colt Gli da PSA PSA Ha 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 Una risata Ok Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Non lo so che significa PSA Non ditola a me Però anche questa Portata a casa L'ultima partita Portata a cazzo Dai ragazzi Se mi avete supportato Allora per davvero Le vinciamo tutte Se no No Se no no Qua c'è più connessione Qua c'è più connessione Ciao signor Ciao signor stecca Io punto sempre su di te Così tu sei un versaglio facile E io me la prendo sempre con quelli più Con i versagli più facili Ci prendiamo Signor stecca Non deve vincere lei Perché Dai L'ultima partita E che fai Non ce la portiamo Dobbiamo uccidere la Bibi Va bene Signora Bibi Ci siamo uccisi In vicenda No No Cro 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 Signor Cro Che in verità È il signor Mortisio Carlo Cosa sbatte a terra? No Non sbatto niente a terra Ma com'uno? Faccio così Faccio così? Sì Ma Va bene ragazzi Ma perché ho usato questa super a caso? Ovviamente io liscio sempre le super Però Allora Ci rimendiamo un attimo la vita 60 Ma no Ma stanno vincendo loro Ma che cosa? 64 Ma io pensavo che stiamo vincendo noi Ma che cavolo No Dicevo che stecca il bersaglio è più facile da fare Invece no No Aspettate che devo chiudere la porta Se no mi disturbano Chiudo questa porta Aspettate Un attimo Avete pazienza Ok Una sconfitta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Allora Questa Ora faccio sempre così Così io mi faccio richiamare Sveglio tutti i vicini Anche se non ne ho Vabbè uno si No contro il gelinto L'abbiamo squagliati proprio Come Ok Via 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 No 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 vero hanno la cosa Si fingono tutti i pro Perché hanno Perché hanno la bollettina La bollicina Che li protegge Si fingono tutti i pro Ma come Ma come What the fuck Andiamoci Nelle 22 Io non voglio morire Please Allora Si Di nuovo C'è uno stecca Che è un pro Sembra facile All'inizio si può uccidere Bene 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 Ma come Trajarda Questa stecca Allora Dovrebbe essere là Allora Dov'è questo stecca Signor stecca Dove Ah ok E' morto E' morto Perché L'ho visto di là Appena loro arrivan Signor stecca Vieni subito qua Ma perché Dai 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 Non possiamo perdere Non possiamo perdere No Via Via Struzzo Partita conclusa Ok Troppe sconfitte Non mi piace più Sto gioco Dai Ma proprio L'ultima partita Non ci riesco più Ma allora Siamo nell'elici Che possiamo fare Spero di arrivare Fino al soglia Sessantatrè 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 Vabbè A soglia Fino all'omega casa Così Un bello box Si un box Signor Signora Maxime Alleluia 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 Tavoletto Di Bruxelles Alleluia 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 Devo andare qua Mi avvicino Mi avvicino Bene Tutte e due Quelle super Spuntate Bene Bene Io mi faccio Notare Uccido Tic Bene Tic Tic Toc Tac Tic Tac Toc Comunque ci siamo Rallentati Discritti Per favore Perché ho utilizzato Una super a caso Tutto 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 Ok Bene Ripariamoci Allora Oh Ma perché ve la prendete Su quelli che non hanno La connessione E soltanto io C'ho la connessione Bene Ok Ok Via 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 Not Javits Let's go Ok Ok Questa Lo dovrei Ok Bene 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 Ora Io Su Infiuto Che voi avete messo Un like E manco Va bene Allora Visto che avete messo Un like E se siete nuovi Bene È arrivato il momento Io lo faccio Se mi avete fatto sprecare Questa cassa Inutilmente No Dai Siete sicuri Vi siete iscritti Il canale Duro Sicuri Io vado Ok Vado Vediamo Tre oggetti Ma io devo fare lo screenshot Ciao 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 Abbiamo finito il video Ciao No ragazzi Questo qua Non è un Questo qua Non è il I brussarsi Quelli là Che Quelli Che l'ha truccati La che è facilissimo Trovare il brawler Non è vero Non è vero Vediamo Quando scade Fra 15 giorni Scade il brawl pass Ma che me ne frega Conatto Conatto Colette 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 La dovevo provare Proviamola Non mi interessa Un tubo marcio Dai 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 Vediamo se è forte Vabbè Dovrebbe essere Dovrebbe essere Togli tanto la super Molto bello Ok Bene Molto carina Bello 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 Bella 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 Io non ci credo Ma io pensavo Ma voi vi siete iscritti al canale a questo punto In una cassa Io Io non ci credo Può durare quanto cavolo volete Questo video Ma perché sparo là Ma io non so sparare con Colette Vai Allora Tu 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 Che c'è? Sai dove è la palla? No Ho dovuto stoppare un attimo Allora Una kill fatta a caso Un'altra kill fatta a caso A casa Vi proteggo io Anzi no Perché mi 57 57 No 62 Bene Anche con il cuoricino Ma che cavolo succede? No Sì Grazie Sì Grazie 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 Bruce Stars Grazie alla Supercell Cioè se io vado nel mio profilo Ok Scegli 8 Livello 8 Nita 6 Bene bene Ho questo account A 4.000 coppe No 4.900 Bene bene Scorri Iris Edgar Sandy Ecco Ecco Marco 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 Non me ne frega Ok io non te ne frega Ciao 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 Ciao